Ti saluto con la pace di Gesù e ti auguro un buongiorno e un buon venerdì 23 di febbraio 2024 Dio è vivente, no non è morto, Dio è vivente, no non è morto, Dio è vivente, no non è morto, io sento che egli è qui, è qui in mezzo a noi, lo sento tutto intorno a me, io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia, amen, gloria a Dio, che belle che sono questi canti, antichi sì ma esprimono veramente tanta gioia e quello che c'è nel nostro cuore, Dio è grande, Dio è vivente, Dio non è morto e c'è anche il titolo di un film che dice questo, non so se lo hai mai visto ma è stupendo e addirittura c'è Dio non è morto uno, Dio non è morto due, veramente da vedere, se non l'hai visto ti consiglio di vederlo, spazio alla pubblicità, vabbè ci sta, è un film cristiano, comunque c'è un bellissimo messaggio, sia benedetto in nome del Signore, fratello, sorella, amico, amica, anche oggi siamo qui davanti a questo schermo, davanti a questo video, però siamo fiduciosi che Dio, Dio parlerà al nostro cuore per mezzo della sua santa e divina parola, quindi non ti rubo altro tempo, passiamo subito a leggere la scrittura che questa mattina viene rivolta al nostro cuore in questi termini, Signore io so che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, Geremia capitolo 10 versetto 23 ed ancora la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero, testo che possiamo trovare nel Salmo 119 versetto 105, il titolo di questa meditazione biblica è questo, il padre vostro sa. Per tutta la notte decine di persone avevano cercato Lorenzo, un bambino di otto anni che si era perso tra le nevi della montagna. All'alba furono inviati due elicotteri come rinforze, rapidamente i piloti individuarono alcune tracce di sci sulla neve e una squadra da terra seguendo quelle tracce, una serie ovviamente di piccole impronte che portavano a un albero, trovò il bambino sano e salvo in mezzo al fogliame. Alla radio il capo incaricato dei soccorsi annunciò Lorenzo sta bene, in effetti in questo momento è più in forma di noi. Spiegò subito il motivo per cui il bambino si trovava in condizioni eccellenti nonostante la sua permanenza al freddo. Suo padre gli aveva detto cosa avrebbe dovuto fare se un giorno si fosse perso. Lorenzo aveva fatto esattamente quello che suo padre gli aveva detto. Si era protetto dal freddo e dalla neve arrampicandosi su un albero e lì si era rannicchiato, riparato dai folti rami. Lorenzo è la dimostrazione di ciò che dovremmo fare noi come figli di un padre celeste amorevole e saggio, ubbidire semplicemente ai suoi comandamenti. Egli sa cos'è meglio per noi oggi, il padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ora, in un mondo pieno di insidie e di voci contraddittorie, confidare nel suo amore immutabile è essenziale per la nostra felicità e per la nostra sicurezza. La Bibbia afferma che per noi è impossibile dirigere la nostra vita da soli. Soltanto la parola di Dio ci dà la luce morale appropriata per illuminare il nostro cammino. E con questo aggiungo la parola di Dio ci permette di guardarci anche allo specchio perché è proprio questo quello che succede quando noi apriamo la Bibbia. La stessa cosa che succede a me la mattina quando io mi alzo dal letto e vado a lavarmi la faccia. A parte che ho i capelli tutti sballati, tutti così, la faccia ancora col cuscino appiccicato in faccia. C'è ho bisogno di lavarmi, ho bisogno di farmi i capelli, mi ci metto il gelo come ora, ho bisogno di sistemare. E poi una volta che mi sistemo, mi lavo i denti e quant'altro, mi guardo attentamente, magari è tutto a posto e poi me ne vado a lavorare. E così è con la parola di Dio. Quando noi apriamo la Bibbia e iniziamo a leggere è come se ci stiamo guardando allo specchio. E ci sono volte in cui magari il Signore ci dice ma sei bello, ma oggi sei splendente, oggi sei bello, ma a volte ci dice, senti, guarda che qua hai una macchia, devi passargli il sapone, devi toglierla, perché sei brutto con sta macchia, non puoi presentarti al lavoro con sta macchia, quindi togliamola. Guarda che nella camicia c'è una macchia di salsa che si vede troppo, tu sei un rappresentante, non puoi uscire con questa camicia, conviene cambiarla, conviene metterla a lavare per eliminare questa macchia e poi magari in un secondo momento la userai. E questo è quello che fa lo Spirito Santo quando noi leggiamo la Bibbia. A volte ci fa vedere i nostri peccati, i nostri difetti e ci fa vedere anche tutte quelle cose che devono essere tolte. Il Signore ce lo dice chiaramente e poi sta a decidere se pulirci oppure se uscire con quelle macchie. Io quello che ti consiglio di fare come se fosse veramente nella realtà macchiato, io ti consiglio ovviamente di andarti a lavare, ti sistemi e esci, non uscire così macchiato come sei. Se invece decidi di non farlo, sappi che andrai incontro a tante cose, derisione, chi ti guarda guarda e dice Dalia Chido che brutto, ma c'ha tutte le macchie nella faccia e manco se ne ha corto, c'ha la camicia tutta sporca di salsa e neanche se ne ha corto. Inizieranno a deriderti, inizieranno a denigrarti, inizieranno a... non potrai più essere... arrivi al lavoro e dice ma come sei vestito? C'è una macchia là che si vede da un chilometro, non puoi lavorare, vattene a casa. Andremo incontro a tante problemi e difficoltà che ci metterebbero un po' a disagio. Quindi quando Dio ci fa vedere delle cose che non vanno, fratello, sorella, amico o amica che stai ascoltando, non dire vabbè tanto che ci fa. Oppure non prendere un giubbotto e te lo metti sopra per coprire la macchia. Non funziona. Col Signore è meglio usare il sapone. Signore lavami con il prezioso sangue di Gesù Cristo, purificami da questo peccato che mi stai facendo vedere e dammi la grazia di poter continuare ad andare avanti e il Signore prende il sapone, te lo passa e ti toglie la macchia. Ovviamente è una macchia che devi stare attento a non farla rispuntare più ma è questo il lavoro che fa lo Spirito Santo. Quindi sia benedetto in nome del Signore. Ovviamente te lo dico per incoraggiarti, non ti voglio assolutamente scoraggiare ma sappi che è così che lavora lo Spirito Santo. Quindi leggi la parola di Dio ogni giorno e trova un buon tempo per poter meditarla. Va bene? Io lo faccio ogni giorno e quindi te lo consiglio vivamente. Dio ti benedica, buona giornata e che la pace di Cristo ti accompagna anche oggi e in tutto il resto di questa giornata. A domani! Ciao!